Questa volta non fatti errori! Avanti! Lei può fare tutta cosa che vuole signore però! Io so fare tutto il loro! Un po' che sarebbe! Un po' che vuole! Un po' che vuole! Questa volta! Parola! Guardate! Se anche tu e gli altri vengono rete alla sercita della Santa Fe. Aiuto! Aiutatemi! Chi è qualcuno? Chi è un giro! Haion! Chi è un giro? Deve essere otto a scuoterare il nome del Padre e il figlio d'uno spirito sanitario. A presto A presto A presto